Ieri ho mandato un messaggio al gruppo della Chiesa, che fra l'altro se non ricevi quei messaggi, facci sapere. Però ho mandato questo messaggio per, diciamo, dare, si dice, anticipare quello che avremmo visto oggi. E oggi sono due versetti brevi, molto brevi, molto concisi, però parlano dell'ira. E ho mandato questo messaggio per chiedere proprio le vostre preghiere che questo momento, il momento del culto, il momento della predicazione di oggi, potesse essere un momento di crescita, veramente crescita spirituale per la nostra Chiesa. Però poi ho pensato dopo, magari mandando questo messaggio, questo potrebbe scoraggiare delle persone, vedendo che domani parleremo di ira, non vengo. Quindi il fatto che siate venuti a me mi incoraggia e spero veramente che questo tempo possa veramente servirci come momento di crescita. Noi abbiamo bisogno di vedere noi stessi, proprio allo specchio della parola di Dio. A volte, parlando con le persone, mi dicono che da un lato loro leggono in modo proprio disciplinato, più o meno disciplinato, in modo regolare la Bibbia. Però proprio per la natura della conversazione che stai avendo con quella persona, è tipo, ma non vedi quello che stai leggendo? Cioè non vedi le cose che la Bibbia dice? Non vedi te stesso? E' proprio Giacomo che nella sua lettera parla di questa immagine che noi arriviamo davanti alla parola di Dio, come uno specchio. Cosa vediamo allo specchio? Se funziona lo specchio? Vediamo noi stessi, di solito la nostra faccia, il nostro aspetto. Però, in quel momento, poi bisogna farci qualcosa, no? In base a quello che noi vediamo. E Giacomo dice, guarda, se tu arrivi davanti alla scrittura e vedi quello che vedi, ma poi vai via senza cambiare niente. È come un uomo, una persona, perché non sono solo gli uomini che guardano allo specchio, anzi, non sono principalmente gli uomini. Posso dire una cosa scandalosa stamattina? Però non sono solo gli uomini che si guardano allo specchio, ma ti guardi allo specchio e subito vai via. e ti dimentichi, dimentichi quello che hai visto. E noi stamattina, come Chiesa, abbiamo bisogno di vederci allo specchio. Che ognuno si possa vedere allo specchio. Per poi chiedere a Dio di fare quello che Lui deve fare in noi, per la Sua gloria. Comunque, siamo ancora in Giacomo. Chiedo in anticipo, se qualcuno ha un fazzoletto, stamattina mi sono scordato, e non è l'unica. Ah, grande, no, grazie mille. Mi dovrebbe servire solo uno, quindi se vuoi tutto il resto della... Ok, Giacomo 1, versetto 19. E ho detto a Jonathan che stamattina avrei cercato di vedere soltanto il versetto 19 e il versetto 20. Probabilmente nella tua Bibbia, nella versione nuova riveduta, il versetto 21 sembra far parte di questo brano. Ci sono vari modi, non tutti sono d'accordo sul modo in cui si divide o si unisce questa sezione. Ma volendo non affrettarci, quando parliamo dell'ira o quando prendiamo in considerazione l'ira, ho chiesto a Jonathan, ho detto a Jonathan che avrei voluto non cercare di affrontare anche 21, perché 21 anche è ricco, vedremo che va tutto insieme. Non stiamo, Giacomo non sta facendo un misto, diciamo un piatto misto, parliamo per due versetti di questo, due versetti di questo, va tutto insieme. Non possiamo predicare tutto il libro, tutta la lettera ogni domenica, quindi per forza bisogna dividerla. Ma stamattina cercheremo di rispondere a due domande principali. La prima è cosa significa, qual è il significato di questi due versetti nel loro contesto. Quindi cosa significano nel contesto di Giacomo, nel contesto di Giacomo 1, che stiamo studiando in modo ampio. Poi, sapete già, parleremo dell'ira, quindi cercheremo di dare una risposta alla domanda, cos'è l'ira? Cos'è l'ira? È possibile che tu stamattina pensi di non avere un problema di ira? E dopo vi consiglio un libro che vi può essere utile. Questo libro, l'autore che per molti anni era un consulente biblico, ora sta col Signore, lui ha scritto un libro che in italiano hanno intitolato Adiratevi e non peccate. Un libro molto utile se tu vuoi crescere in questo, ma se lo prendete, spero di sì, il secondo capitolo di questo libro si intitola Tu hai un problema serio dell'ira? Questo è il titolo. È il capitolo più breve che ho mai letto in un libro, è soltanto una parola il capitolo. E il capitolo è sì. Quindi la verità è che ognuno di noi ha un problema serio con l'ira. E parleremo di questo. Quindi stamattina, Dio volendo, avremo un'idea più chiara di cosa stiamo parlando quando parliamo dell'ira. Poi, se il tempo ci avanza, cercheremo di vedere una domanda che io penso verrà fuori, ti verrà prima o poi, cerchiamo di un po' anticiparla. E poi una domanda concursiva. Alla luce di tutto questo che abbiamo visto oggi, cosa devo fare? Qual è il prossimo passo? Vi voglio cercare di darvi una mano. Dovreste aver ricevuto un foglio per gli appunti. È un po' diverso rispetto a quello che ricevete di solito. E se ti ha dato un po' di fastidio ricevere un foglio così, sono contento perché questo fa proprio parte del messaggio. No, su questo sto scherzando. Però ho voluto darvi qualcosa che mette proprio in evidenza il punto centrale, ma che poi vi lasci spazio per, diciamo, prendere appunti come trovate, diciamo, secondo il vostro metodo, il metodo che trovate più utile. Chiediamo aiuto al Signore e poi ci buttiamo nel testo. Signore, abbiamo bisogno di Te in ogni momento. Questa è una verità fondamentale. Aiutaci a non allontanarci da questa verità. Aiutaci a non pensarci forti in noi. Aiutaci a non pensarci indipendenti, autonomi. Stamattina ti chiediamo di mostrarci la Tua verità e mostrarci la verità su di noi. Noi ora arriviamo davanti a questo specchio che è la Tua parola. Signore, ti prego di umiliarci, ti prego di darci questo senso, questa visione di vedere le cose come stanno realmente per non illuderci, per non ingannarci. Giacomo ha già parlato di questa possibilità di ingannarsi. Che tristezza. Signore, il nostro desiderio è di crescere, quindi questo inizia con vedere le cose come stanno, la Tua verità e poi la verità su di noi. Aiutaci. Nel nome di Gesù. Amen. Quindi Giacomo 1, versetti 19 e 20. La prima domanda, vogliamo capire cosa stanno dicendo questi versetti. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo, è uomo inteso persona, quindi non è un messaggio per i soli maschi, ok? Moji, state attenti. Sappiate questo, fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira. Perché? L'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Versetti molto brevi, molto concisi. A una prima lettura potresti anche dire ma che c'è bisogno di una predica oggi? E' tutto chiaro? Secondo te, dopo una prima lettura iniziale, cosa diresti che stiano dicendo questi versetti? Non è una domanda retorica. Di cosa stanno parlando? Come reagire in che contesto principalmente? Nelle comunicazioni con altre persone? Ok? Ok? Quindi, nel contesto, qualcuno ha detto perché siamo andati in quella direzione, da una prima lettura potremmo concludere che questi versetti stiano dicendo nelle vostre comunicazioni, nei vostri rapporti con le altre persone, seguite questi tre principi, no? Sia ogni uomo, quindi ognuno di noi, dobbiamo essere pronti ad ascoltare, chissà se questo è forse il motivo per cui quando si risponde al telefono si dice pronto, sono pronto ad ascoltare. Questa parola pronto è l'idea di essere veloce, veloce, veloci, ok? Velocità ad ascoltare, prontezza ad ascoltare, mentre, contrasto, lenti a replicare, lenti a parlare, giusto? E lenti all'ira. Quindi abbiamo già l'applicazione, quindi avete anche ragione nel chiedere perché dobbiamo avere una predica oggi. Abbiamo i tre punti di applicazione, abbiamo anche la base, la motivazione, e nel versetto seguente, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Quindi io potrei dire, ascoltate, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio, quindi dobbiamo essere veloci ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira. Possiamo chiudere. Certamente se noi dovessimo seguire questi principi nelle nostre interazioni, nei nostri rapporti, sicuramente facciamo una cosa buona, no? Ci sono anche dei proverbi che dicono cose molto simili, dicono le stesse cose. Per esempio, quando ascolti qualcuno che dà la sua versione di una storia, e tu pensi, ma quanto questa persona ha subito, è incredibile, vive con un mostro, e tu parti carico, pronto a proprio riprendere quell'altra persona e quell'altra persona fa aspetta, ti posso dare la mia prospettiva? C'è un proverbio che dice il primo a dare la sua versione sembra avere ragione, poi arriva l'altro e racconta la sua parte. C'è un proverbio che dice così. C'è un proverbio che dice che nella moltitudine delle parole non manca il peccato, non manca la colpa. Quindi questo ti dovrebbe dire di non essere veloce con il tuo parlare. Quindi sicuramente se noi dovessimo seguire questi tre principi per come sembrano apparire in questo brano, che sembra che stiano parlando di queste interazioni, sicuramente faremmo bene. E io direi alla fine di tutto quello che vedremo oggi, queste sono cose da fare, dovremmo, faremmo bene ad essere pronti ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira. Faremmo bene a fare così. Ma ci dobbiamo chiedere, questo è proprio il punto centrale che Giacomo sta cercando di comunicare. e devo esprimere la mia gratitudine a mio fratello Massimo Molica. Ci eravamo sentiti venerdì, perché era da tempo che non ci sentivamo, e parlando, io ho detto questo, il brano che avremmo visto domenica, e lui mi ha detto, oh guarda, io l'ho studiato da poco, l'ho insegnato da poco, e lui ha condiviso con me quello che lui ha visto nel testo, e lui ha visto che questi tre principi che noi abbiamo visto, questi due versetti, hanno un collegamento con tutta questa sezione, che va oltre quello che a me mi era sembrato all'inizio. Mi era sembrato, sì, giusto quello che anche voi avete detto. Dobbiamo essere veloci ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira nelle nostre conversazioni, nelle nostre interazioni. E Massimo mi ha fatto vedere, e apprezzo molto questo fratello nell'aiuto che mi ha dato in questo, ma partendo dall'inizio della lettera di Giacomo, il primo messaggio che Jonathan ha fatto, dopo l'introduzione, vi ricordate l'introduzione, abbiamo letto tutta la lettera, era bellissimo, poi il primo messaggio di Giacomo, cosa dice Giacomo? Capitolo 1, versetto 2, parla delle delle prove, parla di prove svariate, quindi prove di tutti i tipi, piccole, grandi, prove. Avete pensato al fatto che, facendo parte della stessa chiesa locale, che spesso io e te facciamo parte, in un modo o l'altro, delle prove che gli altri vivono? Le prove, sì, sono problemi di salute, sì, sono problemi di soldi e altre cose, ma spesso le prove sono prove interpersonali, sono prove che si manifestano, che viviamo nei nostri rapporti e visto il nostro rapporto come membri di una chiesa locale, spesso queste prove, queste difficoltà, sono con una persona che forse è qua presente. Ti chiedo di alzare la mano se non hai mai dovuto chiarire qualcosa con qualcuno qua dentro. Forse sei ospite, se sei ospite puoi essere escluso, ma se fai parte di questa chiesa da tempo, se sei membro, alza la mano se non hai mai dovuto chiarire qualcosa con qualcuno qui presente. Paolo, metti giù la mano. Perché questa è la vita, è la vita. Le cose che sono prove sono anche vissute nei rapporti tra di noi. Quindi, due settimane fa Jonathan ha insegnato che nel momento della tentazione, vi ricordate che lui ha detto come concetti sono simili, prova e tentazione, di non essere, di non dire cosa non dobbiamo dire nel momento della tentazione? Che Dio mi sta tentando, che questa tentazione non, che questa tentazione viene da Dio, non dovresti dire così. Non dovremmo dirlo, dovremmo invece ascoltare, questo è il punto che Massimo mi ha cercato di aiutare a vedere, che quando Giacomo qui dice di essere veloci ad ascoltare, pronti ad ascoltare, sì, dovremmo essere pronti ad ascoltare gli altri, ma prima di tutto dovremmo ascoltare la parola di Dio e questa sezione parla della parola di Dio. Jonathan ce l'ha introdotto domenica scorsa in versetto 18 egli ha voluto generarci secondo la sua volontà mediante la parola di verità. Dopo i nostri due versetti di oggi, probabilmente domenica prossima, Giacomo, probabilmente Jonathan, ci porterà le parole di Giacomo, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre e più avanti ci verrà detto che questo ricevere la parola significa non ascoltare e basta. Dobbiamo ascoltare ma non solo ascoltare dovremmo anche fare se no siamo come quell'uomo che arriva davanti allo specchio e non fa. Quindi nelle prove dobbiamo essere pronti ad ascoltare la parola, lenti a parlare, non dovremmo dire e questo è quello che io credo vedremo sia nelle nostre parole ma anche con la nostra ira. Quando aggiungi o meglio così, quando le parole e quando l'ira quando sono frettolose è molto facile peccare quindi Giacomo ci mette in guardia calmati, calmati, rifletti bene, ascolta la parola, ricordati la parola. Non siamo veloci a dire a dare la colpa a Dio perché quanto spesso nelle nostre reazioni immediate diamo la colpa a Dio e Giacomo ce l'ha già detto non lo fare non lo fate la prova sì è il suo programma per la nostra crescita ma nel momento del tuo peccato non è stato Dio a tentarti quella tentazione quel desiderio è venuto è venuta dal tuo cuore non dare la colpa a Dio quindi questo direi in breve spero sia stato in breve il significato di questi versetti nel contesto e di nuovo faremo bene a seguire questi principi nelle nostre comunicazioni ma in senso più ampio quello che noi dobbiamo ascoltare in assoluto è la parola è la parola seconda domanda cos'è l'ira di cosa stiamo parlando quando parliamo di ira voi a cosa pensate quando sentite la parola ira arrabbiarsi ma Luisa ha fatto un verso tipo altro voi sapete cos'è l'ira avete mai se no cerco di descriverla perdita di controllo avete mai visto qualcuno oppure voi stessi proprio perdere il controllo non è un bel momento ve lo ricordate no ma non è un bel momento magari a ripensarci ti vengono ancora i peli stanno su i peli d'oca non è un bel ricordo qualcun altro ira lamentarsi ok mostrare la propria follia sì e io direi che questo va insieme al perdere proprio il controllo però ci sono anche anche se non perdi il controllo comunque sia si può si mostra comunque la la follia quello penso lo vedremo più avanti ferire dare colpa agli altri si diventa aggressivi si mostra la propria aggressività qualcun altro non voglio escludere un autore dice che la Bibbia non presenta e dire tutto questo va bene potremmo anche avrei potuto portare su la lavagna prende molto più tempo ma un autore dice che la Bibbia non presenta una definizione diciamo formale se vogliamo di cosa sia l'ira invece in modo ripetuto mostra persone arrabbiate o persone iraconde utilizza una varietà di termini che danno proprio un sapore alla nostra comprensione di cosa sia l'ira e lo descrive in modo grafico diversi tipi di ira e ci mette in guardia contro l'ira peccaminosa non so se avete fatto caso anche alla varietà di termini che sono state dette quello che dobbiamo riconoscere e qui è un punto non è il punto centrale quello che volevo dire all'inizio mi sono dimenticato noi arriveremo a questo proprio in modo esplicito in modo chiaro verso la fine se state seguendo potete cercare di indovinare cos'è però ve lo dirò probabilmente ci arriverete verso la fine ancora prima di quello del momento in cui lo dirò però quello che dobbiamo tenere presente quando parliamo di ira alcuni di noi siamo onesti siamo trasparenti alcuni di noi esplodono ok non chiederò di alzare la mano alcuni di noi invece ho due mani tre mani alcuni di noi invece non esplodono cosa tendono a fare gli altri quelli che non esplodono si chiudono si chiudono allora la mia domanda è questa se tu non esplodi però ti chiudi e allo stesso tempo sta succedendo nel tuo cuore l'esatta stessa cosa che sta succedendo nel cuore di quello che esplode cos'è che vi distingue uno ha l'ira e l'altro non ha ira no è l'ira è l'ira e come ho letto questa citazione che la bibbia non presenta una definizione proprio formale ma invece usa una varietà varietà di immagini varietà di parole fino al punto di arrivare non so se avete letto Giacomo per intero come vi avevo consigliato suggerito amorevolmente qualche settimana fa di fare Giacomo almeno due volte parla di qualcuno ricordiamoci dal linguaggio sta parlando ad una comunità mentre menziona per esempio qualcuno entra nella vostra comunità comunità nel senso di una chiesa locale lui ben due volte parla di tu uccidi voi uccidete non so che impatto quello ha avuto quando l'hai letto la prima volta forse non ti sei fermato forse ti sei detto forse si vede che in quel momento c'era un problema di credenti che proprio sparivano no ma la settimana scorsa ma avevi visto Nicola no avevamo tre diaconi non c'è più ma cosa è successo pensi veramente che c'era questo problema di membri che proprio uccidevano altri membri di cosa sta parlando della stessa cosa che Gesù ha detto nel sermone sul monte o che Giovanni ha detto in prima Giovanni Gesù dice voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere ma io vi dico chiunque si addira contro suo fratello chi usa questo termine raca che ho visto è un insulto tipo tu non vali e ho chiesto a Maria Luisa qualche non volevo aprire datemi insulti migliori non ho visto come una mossa saggia però un modo di insultare dove tu disprezzi qualcuno oppure la frase pazzo cioè un non considerare o almeno nelle nostre parole Giovanni in prima Giovanni 3.15 forse volete segnarlo se trovate se trovate posto sul vostro foglio chiunque odia suo fratello è omicida chissà Daniele ancora non ha fatto un quadro che viene venduto a Natale con quel versetto ci farebbe bene molto bene ricordare questo chiunque odia suo fratello è omicida e voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna quindi una vasta una varietà di parole di termini di immagini che presenta diciamo la famiglia dell'ira non famiglia come famiglia della nostra chiesa ma una famiglia di cos'è l'ira nelle sue varie manifestazioni e l'ira magari tu esplodi magari non esplodi magari non esplodi e passa un giorno passa due giorni tu non riesci a diciamo far valere quello che vorresti non riesci a comunicare non riesci a far arrivare per un motivo o l'altro quello che vorresti e quell'ira diventa amarezza amarezza che va avanti per giorni per settimane per mesi per anni amarezza che diventa odio odio perché odio e uccidere sono collegati perché è il concetto che io vorrei che tu non fossi presente nella mia vita e se potessi se potessi senza fare brutta figura in chiesa o nel mondo non ti voglio ho guardato alcune definizioni di cosa è l'ira in uomini che hanno un'alta veduta della parola di Dio i puritani e un puritano dice che e questo c'è anche la sfida della traduzione il linguaggio anche antico l'ira è un sentimento in cui una persona è mossa a vendicarsi in risposta ad una ad un'offesa percepita oppure un'ingiustizia ho letto questa definizione ho visto alcuni che discutono sull'utilità di chiamarlo sentimento stamattina non intendiamo aprire questo dibattito ma visto che la Bibbia non presenta una definizione formale è un aiuto se andiamo a vedere cosa dicono gli altri quindi questo puritano che dice che l'ira è un sentimento in cui una persona è mossa a vendicarsi in risposta ad un'offesa percepita oppure un'ingiustizia un autore moderno dice la nostra ira è la risposta attiva di tutto il nostro essere lui per un po' contrastare l'idea che è semplicemente un sentimento che mi va mi viene sei tutto tu coinvolto in questo ma è una risposta attiva che esprime un giudizio morale negativo contro un male percepito e adesso mi limito a queste due definizioni potrete anche voi consultare potreste oppure ve le passo dopo se vi interessano quello che vi voglio dire stamattina è quello che ha in comune tutte le definizioni che io ho visto è che l'ira proprio ha la sua base in modo più semplice possibile l'ira esprime un giudizio un giudizio morale e dice questo non va bene questo è importante e non va bene questo nella sua essenza è l'ira è l'ira che dice questo non va bene quindi alla sua radice questo è l'ira questa non è la questione centrale quindi non lo scrivete sul foglio ci arriveremo ma è interessante non so se avete mai fatto caso che le persone rispondono in modo diverso alla stessa situazione non so se ci avete mai fatto caso ti svegli domani mattina sta pievendo forte tu sai come mia figlia che devi prendere il pullman ma piove oppure hai il motorino che mia figlia ancora non ce l'ha altri 15 anni ok non hai la macchina e vai il motorino ma piove oppure sei adulto e sai che devi portare i figli puoi aspettare l'uscita per i vostri figli piove mamma mia invece ti svegli sta piovendo forte tu sei contadino oppure stai seguendo questo problema della siccità e il nostro bisogno della pioggia ah sta piovendo che benedizione stessa situazione risposte completamente opposte poi a causa della pioggia forte l'allenamento di oggi pomeriggio di baseball o di calcio o altre attività fuori viene annullato e se come mio figlio Mark lui proprio ama lo sport lui non vede l'ora di andare ah mancano 20 minuti e non arriva fra 15 minuti no oggi non si va che delusione a causa della pioggia forte il baseball viene annullato e proprio ieri tu stavi pensando che la nostra famiglia ha un bisogno di un respiro ha un bisogno di una pausa oggi non si va a baseball un'attività in meno questo viene annullato che benedizione stessa situazione risposte completamente opposte anche il traffico se tu sei in ritardo e hai fretta e so che almeno due fratelli qua pubblicamente l'hanno detto quindi non sto svelando nessun segreto almeno due dei nostri fratelli sicuramente non sono gli unici tu vivi diversamente il traffico quando sei in ritardo rispetto a chi non è in ritardo o magari addirittura sta in macchina con una persona con cui piace stare è riuscito a uscire con sua moglie e sta godendo della conversazione magari due pastori di questa chiesa che si vogliono bene sono riusciti ad andare a fare un appuntamento e stanno parlando di una cosa molto interessante in macchina non notano nemmeno il traffico o magari sta ascoltando un podcast un audiolibro e ringrazia il signore per il traffico mentre sono altri che stanno recitando a memoria i salmi quelli non buoni diciamo e questi esempi mostrano che è il modo umano di fare ira a criteri diversi di persona in persona sapete che questo può succedere anche nella nostra chiesa che l'ira visto che viene dal nostro cuore viene anche dalle nostre motivazioni e io più tardi negli annunci vi consiglierò un libricino molto utile molto breve brevissimo cioè è poco più lungo del foglietto che c'è con i baci per un giro quindi brevemente è molto breve però ti aiuterà a capire le tue motivazioni perché sono pronto a scommettere che le tue motivazioni confondono anche te stesso perché si si mischiano e non non si non si capisce più niente per esempio domenica prossima Dio volendo noi avremo l'incontro dei coordinatori momento in cui i vari i responsabili dei vari ministeri vengono insieme in teoria con un unico scopo quello di dare gloria a Dio facendo bene il nostro lavoro ma ci credereste che a volte ci sono momenti un po' scomodi perché rispondiamo dal nostro cuore dove ci sono le nostre motivazioni e il desiderio di far bene il nostro lavoro può avere per la motivazione sbagliata io posso voler che l'audio sia proprio una meraviglia non per la gloria di Dio ma per la gloria mia guarda cosa Dio ha fatto con quel ministero proprio si vede quanto è bravo come Guina quindi vi incoraggio a vedere questo questo libricino quindi il desiderio che le cose vadano bene nel tuo ministero il desiderio che il tuo coniuge si comporti in un certo modo è sbagliato aspettarsi che mia coniuge mia moglie ubbidisca un versetto biblico è sbagliato ma perché perché è così importante è sbagliato pretendere che i miei figli mi ubbidiscono no ma perché è diventato così forte questo tuo desiderio perché questi desideri queste motivazioni i desideri facilmente diventano idoli io voglio che a tutti i costi i miei figli facciano questo o mia moglie faccia questo o gli altri coordinatori o i pastori o quelli nel mio ministero i miei datori di lavoro i miei colleghi e presto scopri che al centro della tua ira al centro di questo giudizio morale non c'è la gloria di Dio c'è la gloria tua c'è la gloria tua l'ira è sempre peccaminosa l'ira è sempre peccaminosa per chi ha detto di sì ti passo un paio di brani dove Dio stesso e Gesù ci sono brani che parlano dell'ira di Dio l'ira non è sempre peccaminosa e come vi ho detto l'ira essenzialmente è un giudizio morale quindi anche per Dio Dio esprime un giudizio morale questo non va bene lui è l'unico in tutto l'universo che lo dice senza mai peccare questo non va bene e sono mosso a farci qualcosa l'ira di Dio non è peccaminosa l'ira di Gesù non è peccaminosa l'ira nostra se parliamoci chiari quasi sempre quasi sempre è peccaminosa c'è un versetto ed è diventato anche il titolo di quel libro Efesini 4.26 magari mentre mi stai ascoltando ti è già venuta in mente la domanda se no ve la dico adesso ma non c'è un versetto nella Bibbia che dice adiratevi e non peccate non prenderò molto tempo anche perché non ho molto tempo ma quello che ho visto è la maggior parte dei studiosi del Nuovo Testamento non vedono questo come un imperativo che voi dovreste adirarvi senza peccare lo vedono più come una cosa che tipo Dio sa che succederà Dio sa che noi avremo a che fare con l'ira e lui ci sta dicendo quando avete questi momenti di ira assicuratevi che non lo fate in modo peccaminoso non lasciate che passi il tempo non date posto al diavolo stamattina non ho più tempo per affrontare questo volevo semplicemente dirlo è una domanda buona con cui confrontarsi ma molto probabilmente non è un imperativo come tipo perché potremmo arrivare a un punto quasi di confusione ma aspetta ma mi devo adirare o non mi devo adirare e sicuramente visto che l'ira è un giudizio morale potremmo farci un'altra domanda ma se non mi devo adirare non mi devo arrabbiare a cosa Dio mi chiama mi chiama ad essere passivo davanti al male a volte penso che diamo un po' quest'idea che non dovremo mai reagire quindi solamente passività essere passivi secondo voi è quello a cui Dio ci chiama no Dio non ci chiama ad essere passivi un autore lo chiama anziché chiamarlo l'ira giusta alcuni dicono di vivere l'ira nel modo giusto lui utilizza questa frase ed è anche un capitolo nel libro che vi consiglio ascoltate questa frase invece di dire l'ira giusta per quanto riguarda noi umani la disapprovazione disapprovazione costruttiva della misericordia la disapprovazione costruttiva della misericordia perché questi tre elementi disapprovazione prima di tutto perché c'è sempre il giudizio morale nella chiesa non siamo chiamati a chiudere un occhio al peccato no siamo chiamati a dire sì questo non va bene ma siamo chiamati a farlo in un modo non peccaminoso quindi c'è sempre il giudizio e lo vediamo ci sono in Giacomo stesso ci sono quattro brani due che parlano del frutto della giustizia che si semina questo è in Giacomo 3 13 anzi leggiamo questo brano girate soltanto una pagina Giacomo 3 13 chi fra voi è saggio e intelligente mostri con la buona condotta le sue opere compiute con mansuetudine e saggezza ma se avete nel vostro cuore amara gelosia e spirito di contesa non vi vantate non mentite contro la verità questa non è la saggezza che scende dall'alto ma è terrena animale diabolica infatti dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattiva azione la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura poi pacifica mite conciliante piena di misericordia e di buoni frutti imparziale senza ipocrisia il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adoperano per la pace spero che abbiate visto quanto può essere utile tutta scrittura è utile utile alla nostra conversazione è un brano così questo è un brano che si presta benissimo alla diagnosi di noi stessi la valutazione di noi stessi vedo qualcosa che non va bene come reagisco aspetta vado a vedere c'è amara gelosia spirito di contesa allora posso già capire da che parte sto reagendo o da che parte sto reagendo lui dice non mentite e dire che questo viene da me non lo fate che la saggezza che viene dall'alto anzitutto è pura pacifica mite conciliante l'ira peccaminosa cosa fa? costruisce o distrugge? distrugge l'ira giusta se vogliamo per usare la frase di quest'autore la disapprovazione costruttiva della misericordia sto dicendo che non va bene però il modo in cui scelgo di affrontarlo non varo a distruggere non sto facendo buchi nella parete varo per edificare con misericordia misericordia e questo brano qui parla della giustizia di Dio versetto 18 il frutto della giustizia si semina nella pace per coloro che si adopano per la pace avete già sentito la parola giustizia stamattina e nel nostro brano l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio la nostra ira con noi stessi al centro non compie l'ira di Dio nelle prove nelle difficoltà tra di noi la mia ira naturale non compie la giustizia di Dio mettiamolo in testa alla fine del libro ve lo menziono soltanto Giacomo 5 gli ultimi due versetti di Giacomo proprio la conclusione della lettera fratelli miei se qualcuno tra di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro costui sappia che chi avrà portato indietro un peccatore dall'errore della sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati vi suona come essere passivi no quindi noi dobbiamo lavorare su rispondere nel modo giusto non essere passivi non è questa l'alternativa chiariamo le idee però nei nostri giudizi non siamo noi al centro ma è Dio quindi per tornare alla nostra applicazione nella vita passiamo da a me non mi piace quando lei fa così secondo me quando lei fa così non onora Dio e io voglio aiutarla ad essere un credente una credente che dia maggiore gloria e onore a Dio mi fa arrabbiare quando mia moglie fa così no secondo quello che è vero nella Bibbia mia moglie per essere ubbidiente al Signore dovrebbe cambiare questo ma non è un'emergenza gli sto dando il giusto peso ma non sono più io al centro è Dio miei figli lui lei quanto mi dà fastidio oppure tu non ti arrabbi ti dà fastidio no tu sei molto più santo di noi io non mi arrabbio le cose mi danno fastidio oppure moro molto freddo io non mi arrabbio mi rivendico spostiamo il centro non sono più io al centro i giudizi non sono fatti in base ai miei gusti ai miei desideri alle mie preferenze mettiamo Dio al centro la sua gloria non è questo dare gloria a Dio e servire Dio cioè se non è questo tu cosa intendi con dare gloria a Dio e servire Dio essere in competizione vuoi un trono accanto al suo così che serve Dio no ho chiesto a Jonathan di cantare in conclusione il canto l'inno si la mia visione e noi abbiamo un cambiamento di questa visione della nostra visione dobbiamo vedere Dio come lui è e dobbiamo vedere le cose come Dio le vede e avere come nella nostra risposta questa questa disapprovazione quindi non stiamo chiudendo un occhio non stiamo diventando passivi non diventiamo quelli che no va bene tutto non voglio creare problemi sto sui fatti i fatti miei no siamo passivi però rispondiamo nel modo giusto andiamo per costruire non per distruggere sapete che le parole distruggono andiamo per costruire quindi anche in questo nella scelta delle tue parole qual è il modo migliore per dire quello che vorrei dire a questo fratello varo per edificare non distruggere e le misericordia conclusione e alla luce di tutto questo cosa devo fare oggi cosa devo fare oggi è un grande peso sta diventando sempre di più un grande peso sul mio cuore situazioni che io vorrei onestamente vorrei evitare dove ci siamo creati i nostri criteri per cosa significa essere un bravo credente e faccio questo faccio quest'altro ma la mia vita veramente non è non è sotto la signoria di Dio non è sotto Cristo e veramente sono io sul trono e vorrei essere sul trono io non vorrei che in base a questi criteri in base in base al fatto che quando vengo in chiesa la gente mi saluta ho tanti amici mi ci trovo bene non vorrei che una persona basandosi su questo viva con l'illusione di essere quello che non è il tema della lettera di Giacomo è questo se tu sei veramente quello che dici di essere se tu sei quello che dice di avere la fede ci saranno le opere e le opere non sono semplicemente possono anche esserlo ma non sono solo le cose carine che scelgo di fare nel momento in cui scelgo di farle no stiamo parlando della vita di tutti i giorni queste prove le prove fra di noi come reagisci quando succede qualcosa che a te dà fastidio ti calmi riporti la tua mente sulla verità ah già questo fa parte del piano di Dio per la mia crescita grazie signore o in quel momento hai già detto cinque cose di cui dovresti chiedere perdono questo è un muro in cui possiamo avere un'immagine molto accurata dello stato del nostro cuore quindi fratelli il messaggio di oggi non è quello di dovete fare meglio dovete aggiustarvi per poter venire a Cristo il messaggio è che senza Cristo tu non ti puoi aggiustare perché Giacomo parla di di un albero che non farà mai quest'altro frutto un melo che non farà mai le olive perché Giacomo parla di una sorgente di acqua dolce che non darà mai l'acqua salata che non può darla in modo nella nostra applicazione in modo continuato perché se siamo veramente quello che diciamo di essere ci sarà l'evidenza quindi stamattina come punto e adesso vi vi dico la questione centrale dell'ira è chi sta sul trono del mio cuore chi sto adorando avete mai sentito qualcuno dire sai che il problema di fondo è un problema di adorazione che significa che non canto bene in chiesa no è una questione di chi sta sul trono del tuo cuore se noi potessimo aprire facciamo finta che dietro questa tenda c'è il trono del tuo cuore se potessimo aprirla noi vedremo chi è ma non lo possiamo fare siamo in pochi stamattina che possono leggere il tuo cuore veramente c'è solo Dio che lo conosce da cima a fondo tu hai però una buona idea della condizione del tuo cuore ti voglio chiedere questo tu vedi nella tua vita evidenza di un credente e prima che rispondi perché so sono umano anche io noi tendiamo ad essere molto più buoni e generosi con noi stessi ti dico questo ti chiedo questo se la persona in questa chiesa che ti sta meno simpatica di tutta la chiesa ti do un secondo ok se quella persona dovesse vivere nel modo in cui tu vivi stesse parole stesse azioni stessi pensieri pensieri che nutri non pensieri che tu dici ah no questo devo chiedere perdone pensieri che tu stai nutriendo che stai alimentando se la persona in questa chiesa che ti sta meno simpatica dovesse vivere proprio come te e tu lo sai e poi arriva e partecipa alla santa cena stamattina cosa diresti? diresti scandalo quella persona non è veramente credente ti sei fatto la diagnosi fratelli non sprecate questa occasione di vedere avendo visto come sta il tuo cuore c'è speranza per chi si ravvede chiedi a Dio chiedi la fede chiedi il ravvedimento queste non sono cose che tu puoi fare da solo viene dal Signore viene da Dio hai bisogno di un salvatore abbiamo bisogno di un salvatore però se tu rifiuti di scendere dal tuo trono se rifiuti di cedere il posto all'unico vero Signore prima di tutto sarai spesso e volentieri frustrato in questa vita perché non c'è nessuno sulla faccia della terra che può soddisfare i tuoi desideri sarai spesso frustrato poi arriverai all'eternità per subire l'ira di Dio e se tu stamattina ti stai rendendo conto che ancora non hai ceduto il posto a Dio non importa se hai già dato una preghiera non importa se ti sei già battezzato umiliati riconoscilo perché se non hai ceduto il posto a Dio però stai cercando di fingere sappi che non potrai mai produrre quello che solo Dio Spirito Santo può produrre nella tua vita e io direi anche questo un pensiero conclusivo io penso lo stavo leggendo ieri penso di dire che chi finge di essere veramente credente non lo è per me è una specie di bestemmiare lo Spirito Santo perché tu stai vivendo una vita se tu stai dicendo questa è la differenza che lo Spirito Santo fa in una persona eppure continui nel tuo peccato questo è bestemmiare quello che lo Spirito Santo fa nella vita di una persona e infangare il nome detto in altro modo se i credenti se i veri credenti sono così io non voglio niente a che fare con Dio quindi io vi invito noi adesso canteremo sì la mia visione chiediamo a Dio di mostrare a noi non solo lo stato del nostro stesso cuore ma poi come procedere e questa chiesa non siamo perfetti ma ci sono persone qua dentro che ti vogliono aiutare umiliati chiedi aiuto ti vogliamo aiutare il nostro salvatore disse questo venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo prendete su di voi il mio gioco imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi troverete riposo alle anime vostre se il tuo problema stamattina è con l'ira il tuo problema non è l'ira il tuo problema è che sei ancora sul trono e il nostro salvatore dice sei stanco sei stanco di cercare di governare il mondo sei reso conto che non ce la fai umiliati vieni da me ti darò riposo la questione dell'ira è chi sta sul trono del tuo cuore signore grazie per questo brano signore ti prego che questo possa essere un momento di chiarezza per ognuno di noi e non solo di chiarezza ma un coraggio di di riconoscere le cose come stanno perché molto probabilmente quello che noi andremo a riconoscere se tu dovessi aiutarci a farlo se oggi dovessimo pensare di fare una grande confessione molto probabilmente sentiremo gli altri dire sì lo sappiamo lo sappiamo ti conosciamo ti conosciamo siamo contenti che anche tu l'hai visto signore umiliaci questo brano ci ricorda che abbiamo bisogno di te ci ricorda che non siamo in grado di prendere il tuo posto sul trono ci ricorda che la nostra ira non compie la tua giustizia signore noi non vogliamo sprecare così le nostre vite le nostre prove le prove degli altri signore aiutaci a viverle non con l'ira ma con gioia perché è tutta gioia le prove nel nome di Gesù Amen